Dati inquietanti, quelli registrati a Padova, dalle 10 telecamere fisse, che a breve diventeranno 15, poste a controllo delle arterie di ingresso in città e dalle altrettanto apparecchiature di cui sono adottate le autovetture della polizia locale, che dalla lettura della targa raccolgono informazioni sulla documentazione dei veicoli, capendo nell'immediato se i mezzi in transito siano in regola o meno con assicurazione e revisione e verificano che le autovetture non siano eventualmente state rubate. Un sistema di controllo che funziona 24 ore su 24, i cui dati sono visibili direttamente sui palmari di cui sono adottati gli agenti della municipale. Nei primi 10 giorni di funzionamento dell'intero sistema, le auto non in regola sono risultate essere numerosissime se si pensa che i veicoli controllati quotidianamente sono 250.000 e che in media in un periodo di tempo di soli 5 minuti 18 veicoli non risultano essere in regola. È possibile conoscere immediatamente il dato, eventualmente fermare anche direttamente sul posto il veicolo e anche eventualmente fare attività investigativa nei giorni successivi per poter individuare eventualmente la presenza di questi mezzi che poi peraltro circolano e sono sempre orientati a fare danni. Un sistema che di fatto intensifica e velocizza gli accertamenti, che a breve sarà integrato con l'installazione di 14 apparecchiature sui semafori, a controllo della velocità ed eventuali passaggi con il rosso. C'è la volontà di dare un segnale chiaro, non tolleriamo più che giri sul nostro territorio un'auto senza essere in regola e questo fa ad appandare anche con i controlli dei semafori il rispetto generale delle regole del codice della strada. Da maggio partirà anche un servizio fisso tutte le notti di pattugliamento stradale sul nostro territorio, pattugliamento di notte con posti di blocco fissi, quindi diamo un segnale molto chiaro.